Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Ogni volta che parliamo raccontiamo di noi e ciò che esprimiamo va ben oltre il contenuto letterale delle nostre parole. Noi non comunichiamo soltanto parlando o scrivendo ma anche attraverso tutta una vasta gamma di segni e di movimenti di intenzione. Ciò che le parole non dicono sta nascosto nelle stropicciature dei gesti, nelle pieghe dei toni, nelle pause fuori ritmo, nell'incertezza delle posture, nell'espressione del viso. Comunichiamo anche con i colori, con i profumi, con il silenzio e anche con tutti quei segni che ci sono in ogni contesto in cui ha luogo una situazione interpersonale. Può essere l'arredamento oppure l'atmosfera ambientale. In altre parole abbiamo due tipi di comunicazione, quella verbale e quella non verbale e quest'ultima prevale sulla prima. Infatti è molto difficile che gli altri possano credere a quello che diciamo se il nostro comportamento non è coerente con le nostre parole. Lo psicologo americano di origine ermene, Albert Merabian, ha fatto degli studi per i quali peraltro è diventato famoso sui comportamenti non verbali nella comunicazione face to face, faccia a faccia. Questi studi parlano dell'efficacia delle varie componenti della comunicazione che si possono così riassumere. La componente verbale, cioè le parole e il contenuto, ha un'efficacia del 7%. La componente paraverbale, toni, volume, ritmo della voce, ha un'efficacia del 38%. La componente non verbale, ossia i gesti, i movimenti, la postura, il look, l'espressione del volto, il contatto visivo e anche la gestione stress calma, ha un'efficacia del 55%. Forse le percentuali e le differenze non sono così marcate, ma la sostanza non cambia. Ecco perché possiamo dire che l'efficacia comunicativa nasce dalla parola ma poi si potenzia e si esalta attraverso i gesti e tutto il linguaggio del nostro corpo. La conoscenza del nostro corpo e delle nostre emozioni quindi è un punto fondamentale per le buone maniere. Le buone maniere infatti consigliano di non far parlare il nostro istinto, ma la nostra consapevolezza. Questo significa che dobbiamo essere coscienti dei nostri gesti e di quello che esprimiamo attraverso il linguaggio del nostro corpo. Le buone maniere suggeriscono quindi di avere alcuni avvertimenti. Il gesto non deve mai essere inconsapevole ed eccessivo. Nella comunicazione le mani devono sempre rimanere in mostra. Ogni gesto ha un suo significato, quindi è importante conoscerlo prima di utilizzarlo. Non è scorretto utilizzare le mani per comunicare meglio un concetto. L'importante è che i gesti siano sempre discreti e leggeri. Le mani non dovranno mai superare la linea delle spalle. Le mani saranno utilizzate in occasioni pubbliche, in occasioni di un convegno, ma mai in situazioni di famiglia, intime. Quindi se siamo in un ambiente familiare piccolo, limitiamo al massimo la gestualità. Non si gesticola mai a tavola e soprattutto mai con le posate. Il corpo non deve mai avere atteggiamenti che si ripetono nel tempo. E infine non utilizziamo gesti che hanno un significato prestabilito. Questi li lasciamo ai bambini.